Vi devo raccontare un nuovo tentativo di truffa, sempre sul conto corrente e in un modo sempre abbastanza ingegnoso. Ve ne ho raccontati altri in altri video, però questo è interessante, quindi prendete nota. Allora, ricevo un sms, vi faccio vedere come compare, spero che riusciate a vedere. BNL, vi copro, vabbè questo è vero, BNL e quindi risulta come se arrivasse dalla mia banca, io sono un cliente BNL. E sotto c'è questo messaggio che dice, richiesta di accesso BNL in data 2102 2004, se non sei tu contattaci al numero 0240043717. Questo messaggio è un po' sospetto, perché io in effetti ieri non sono andato sul conto corrente a fare cose. E quindi uno verrebbe un attimo la preoccupazione di dire, ma se non sono io, allora è stato qualcun altro, forse c'è qualcosa che non va, qualcuno ha la mia password e sta cercando di entrare. E quindi cosa fai? Istintivamente chiami questo numero. Primo problema, il call center di BNL è sempre stato a Roma, ha sempre avuto un prefisso 06 e poi un numero molto più corto. Va bene, ipotizziamo, io avevo già capito che c'era la fregatura, però volevo vedere che cosa c'era dietro. Quindi ipotizziamo, proviamo a chiamare questo numero, se si fa chiama... Allora, se si fa chiama, si arriva, ecco, già l'applicazione... Ecco, sembra davvero il call center di BNL. Però, come vi ho fatto vedere, già l'applicazione mi segnalava che c'era qualcosa che non andava. Un accesso non autorizzato, premi 3. Per parlare con un operatore, premere 0. Per tornare al menu principale, premere il tasto 9. Il 3 è proprio per segnalare un accesso non autorizzato. Sentite cosa chiede. Inserisci il numero cliente. Inserisci il numero cliente. Mettiamo un numero finto, ovviamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. E aspettiamo. Visita il tuo codice di accesso. Hai capito? Vogliono la password. Mettiamo una cosa finta. 0, 0, 0, 0, 0. E? Attendere in linea il primo operatore disponibile le risponderà. E momenti non è un agente. Non è un'esplosione. Ecco. Voce tedesca che dice qualcosa di strano e mettono giù. Però avete capito la fregatura? Cioè tu gli hai già dato le password, gli hai già dato tutto. Gli hai già dato il tuo numero cliente e il codice d'accesso per entrare. In realtà non è così semplice perché io ho la... Come dire? BNL ha impostato l'accesso a due fattori. Quindi comunque dovresti accedere da questo cellulare. Però per fare già qualche cosa, per iniziare a raccogliere qualche dato, iniziano a poter mettere le mani sul conto, magari provare ad entrare. Poi magari ti chiamano, come era successo nell'altro caso, che vi ho raccontato ormai due anni fa, ti chiamano un operatore con una scusa e ti dice Ah guardi, abbiamo visto che ci sono... Che lei ci ha chiamato, che ci sono dei movimenti strani, abbiamo già i suoi codici, ci deve solamente autorizzare l'operazione. Quindi mi raccomando state molto in campana. E qua c'erano tutti gli indizi per capire che ti stavano fregando. Però c'è da dire che è fatto in modo molto molto ingegnoso. Perché il call center è la voce identica con gli stessi step come preso da BNL. Il numero di telefono è milanese, quindi effettivamente è strano. E l'applicazione, se avete un'applicazione di quelle anti-spam, già te lo segnala come potenzialmente pericoloso. Però vedete come una persona magari con minori competenze in questo campo potrebbe ingenuamente aver messo il codice cliente e il codice d'accesso. E loro se lo sono già presi. Va bene, alla prossima. Ciao a tutti.